Musica Si è svolta dal 24 al 27 febbraio a Gerusalemme la settimana sul dialogo interreligioso promossa dall'ordine francescano dei frati minori, giornate di studio ma soprattutto occasioni di incontro con altre fedi. È stata celebrata il 22 febbraio sul mare di Galilea la festa della Cattedra di San Pietro in Terra Santa, una messa per andare alle fonti della fede cristiana. Le famiglie di Terra Santa hanno incontrato il presidente del Movimento di Rinnovamento nello spirito per prepararsi all'incontro con il Papa e al prossimo sinodo sulla famiglia. Al Cenacolino e il Convento Francescano sul Monte Sion sono in corso lavori di ristrutturazione, dall'Italia alle nuove vetrate e l'allestimento del giardino. Grazie a tutti! Grazie a tutti!